Oh, ma che piacere ritrovare il signor Antonio Conte e mandarlo a casa. Ma che bello, che bello, che bel Milan. C'è da essere orgogliosi di questi ragazzi. Oggi una partita eccezionale, attentissima, in tutti i 90 minuti. L'unica, se vogliamo, distrazione, ma non possiamo neanche chiamarla così, perché quando Enrique in salta di testa, è bravo lui, non è che sei distratto tu. È l'episodio di Kane, per il resto il Milan ha concesso così al Tottenham. Zero occasione, eccezion fatta per quella di Kane in 90 minuti. Mi verrebbero a dire in 180, perché veramente il Tottenham ha fatto pochissimo per una qualificazione non meritata. Stra-meritata. Stra-me-ri-ta-ta. Questa è la verità, perché diciamolo, quando c'è da arrabbiarci, come a Firenze, ci si arrabbia, anche se il titolo del mio video post-Fiorentina era abbastanza chiaro. Meglio oggi che col Tottenham. Ma io me lo sentivo quasi che c'era la testa solo su questo impegno e obiettivamente era giusto così. Diciamolo, era giusto così. E allora, andiamo a rendere merito a questi ragazzi con le pagelle, ma prima, un altro sassolino che devo togliermi dalla scarpa è per quell'assassino di Romero, che è giocatore di una scorrettezza veramente brutale, di una bruttezza tecnica come pochi, veramente un difensore sudamericano nel senso negativo del termine, non me ne vogliono i sudamericani che amo, ma sudamericano cattivo, sempre aggressivo, sempre scorretto, falloso, a casa. Doveva già non giocarla questa partita, perché la verità è che non doveva giocarla, perché doveva essere già espulso all'andata per il parlo di Tonali, la gioca, e San Giovanni, un buon inganni come diciamo a Milano, anche se si giocava a Londra, giustamente va a casa, sotto la doccia, prima della fine della partita, e ben gli sta veramente. Allora, andiamo con le pagelle, perché ragazzi, oggi c'è da veramente lodarli tutti questi ragazzi, anche se uno mi ha fatto un po' arrabbiare, e sapete già chi è, secondo me, benissimo Mignan, la difesa eccezionale, Calu Luciao, ragazzini con l'esperienza dei veterani, poco altro da dire, Tomori fa una partita, a un certo punto mette giù un pallone spiovente in area, con un controllo veramente da urlo. Benissimo Messias, ragazzi, è vero che si mangia due gol, con brutte conclusioni, ma fa un lavoro sulla fascia, che poi quando entra Salemekers, si vede che non è lo stesso tipo di lavoro, anche se anche Salemekers non demerita, tutto sommato. Krunic parte male, perde un paio di palloni che mi fa dire, non so se è la serata giusta per lui, e poi una prestazione increscendo, veramente, veramente bravo, una sorta di scala musicale, che si alza per Rade Krunic, che nel finale pulisce un paio di palloni dall'area pericolosissimi, Teo Hernandez, una potenza sulla fascia, è tornato quello premondiale, e finalmente, mi viene da dire, bravo Brahim, non era per niente facile, mettersi lì tra le linee, disturbare quei colossi, che il Tottenham ha il centro campo, lo fa bene, sguscia via un paio di volte, becca un paio di falli, ed è bravo. Bravo anche Giroud, perché fa un grande lavoro nel primo tempo, non stava bene, e ne ricordatevi che non stava bene, perché aveva l'influenza fino a poche ore prima del match, e tira fuori una prestazione gagliarda. Ragazzi, Leao, Leao fa troppo poco, troppo poco, quello che fa nel secondo tempo, doveva essere la sua partita, quello che fa Teo Hernandez, puntare Romero nella ripresa, doveva farlo lui tutta la partita, e allora il Milan avrebbe vissuto una gara molto più tranquilla, con un Romero e meno già molto tempo prima, se solo Raffaeleau avesse puntato l'argentino, e si fosse fatto stendere, come avrebbe dovuto. Ma ragazzi, l'importanza capitale di Ismael Benassert, che entra nel finale, e si siede in cattedra come il professore, mi ricorda certe partite di Seedorf, che quando ormai era sul tramonto della carriera, lo mettevi in campo nel finale per gestire palla, e certi controlli oggi di Benassert, mi hanno ricordato il miglior Clarence, giocatore che io ho adorato, come sapete. E poi bene anche Origi e Rebic, meritavamo il gol, lo meritava Origi, perché magari gli avrebbe fatto svoltare la stagione un gol importante in Champions, ma come dice il mio amico Gabriele Cantella, è vero, Origi è un animale da Champions, se lo vedi oggi, che entra male, perde un po' di palloni, poi alla prima occasione buona, da momenti lo fa con un tocco che va sul palo a incrociare, meraviglioso, bellissimo, bravo, anche Origi, ma signori, mi alzo in piedi, perché veramente, e faccio anche il saluto per Stefano Pioni, allenatore che molti hanno criticato, lo sapete, ho cercato di difendere fino all'ultimo, mi ha fatto arrabbiare anche a me in qualche occasione, l'ho detto, ma non avrebbe mai meritato l'esonero per me, e ragazzi oggi siamo qui a dire che il Conte, che piace tanto ad alcuni tifosi milanisti, che lo vorrebbero subito dimenticandosi tutto quello che è stato, compreso quel gol che era di tanto così dentro, su cui lui ha spergiurato che era un episodio come un altro, il signor Conte va a casa, va a casa, e il signor Pioli invece ci porta tra le prime otto squadre d'Europa, e andiamo a confrontare i fatturati, non solo di Milano e Tottenham, ma delle prime otto di questa Champions League, andiamo a farlo questo lavoro, lo faremo a calcissimo sicuramente, confrontiamo i fatturati, e vediamo chi ha il fatturato minore, chi ha speso di meno per il mercato, e vedrete che il signor Stefano Pioli va dietro anche al Benfica in questa classifica, eppure ci siamo tra le prime otto, e chissà, con un buon sorteggio, non si sa, non si sa, non si sa, però la stagione in Champions League del Milano è comunque un capolavoro, chiudiamo qui, seguite la trasmissione, oggi c'è già Luca Drammis, mi raccomando, commentate sempre le pagelle qui sotto, e iscrivetevi al canale Fulio Collovati Official, buona serata a tutti, e il Milan è tra le prime otto squadre d'Europa, buona serata!